I sindaci corrono in soccorso dei pendolari dei treni contro le ferrovie dello Stato. I primi cittadini dei comuni di Marcon, Quarto Daltino e Roncade hanno denunciato in una lettera all'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso il rischio per le corse delle fasce di prima mattina e di sera, molto frequentate dai turnisti e dai residenti dell'area metropolitana. L'aumento del numero delle corse deciso per l'estate da Trenitalia, infatti, sembra destinato maggiormente ai turisti e alle fasce orarie centrali della giornata. In particolare ne esce penalizzata la linea Venezia-Porto Gruaro. I disservizi non finiscono qui. Sul treno Verona Mestre delle 16.30 una ragazza che si era ferita al dito con la porta automatica del vagone non solo non ha potuto utilizzare la cassetta di pronto soccorso, poiché è mancante, ma non ha potuto neppure contare sull'aiuto del personale del treno in quanto non vi era nessun controllore. Solo l'intervento di un inserviente di una cooperativa, che aveva personalmente del disinfettante, ha potuto fermare dopo un'ora l'emorragia.